Che cos'è la disconferma e quali effetti i produce? La disconferma, nell'ambito della teoria, della comunicazione, della scuola di Palo Alto, si verifica quando uno degli interlocutori non riconosce la validità della persona che ha di fronte, oppure la ignora, la mette in ridicolo, le attribuisce stati d'animo, pensieri che in realtà non le appartengono. E pertanto la disconferma contribuisce a creare un clima di incertezza, di instabilità nel sistema comunicativo, nell'ambito del sistema comunicativo.